Sono diversi giorni che la città di Agropoli registra guarigioni di cittadini che sono risultati positivi al covid-19. Tre le persone guarite dal coronavirus che fanno scendere il numero totale di positivi a 26 nel report serale del comune. Una di queste era stata ricoverata lo scorso 28 novembre presso il covid hospital dell'ospedale civile di Agropoli nel reparto di terapia subintensiva. Nella giornata di ieri sono arrivate le dimissioni per l'effettiva guarigione. Il cittadino nonostante sia cardiopatico è riuscito a superare il decorso della malattia ed è guarito dopo 23 giorni di degenza in subintensiva. Nella giornata di ieri anche un altro paziente è stato dimesso dal reparto speciale agropolese. L'uomo era stato ricoverato lo scorso 24 novembre in subintensiva per polmonite interstiziale da SARS-CoV-19. Il cittadino originario è residente a Salerno di 55 anni quando è arrivato ad Agropoli oltre alla positività al virus aveva un quadro clinico molto delicato perché operato il 17 novembre a Battipaia per una frattura al femore. È stato assistito per 26 giorni ed è riuscito a guarire dal covid. Anche la situazione dei comuni vicini come Castellabate e Capaccio Pestum sembra essere stabile. Nella giornata di ieri nessuna positività è stata registrata a Castellabate che resta con cinque cittadini positivi al covid e 43 guariti. Mentre nella città dei Templi si registra un'altra guarigione che porta il totale di cittadini positivi al covid a 102 persone contagiate e 164 cittadini guariti. Nel comune di Rutino purtroppo il dottor Massimo Landulfo è risultato positivo asintomatico al covid-19. A farlo sapere il sindaco Giuseppe Rotolo che avvisa i cittadini che tutti coloro che sono stati a contatto con il dottor Landulfo negli ultimi 14 giorni sono pregati senza uscire di casa di informare prontamente il sindaco al numero 348 53 37 204 o il vigile Domenico Chirico al numero 331 42 67 820. Insieme al dottore, ci tiene a precisare Rotolo, abbiamo condiviso la necessità di rendere subito pubblica la notizia sia per dovere di trasparenza che per consentire a quanti nei giorni passati sono stati al suo studio di esserne informati. Allo stesso tempo mi ha incaricato di comunicare che in ogni caso resta raggiungibile telefonicamente per quanti avessero necessità di prescrizioni mediche.